I nostri arredi e le nostre porte completano la personalità degli edifici e riflettono lo stile di vita delle persone che li occupano. La Gualdi nasce da un'antica tradizione dei nonni e dei bisnonni nella metà dell'Ottocento in cui veniva svolta un'attività prevalentemente artigianale. Il grande impulso è stato impresso all'azienda nel secondo dopoguerra dall'attività dei nostri genitori che per un evento fortuito vennero in contatto con i migliori architetti milanesi che hanno segnato la nostra storia in un modo fondamentale. Oggi principalmente produciamo porte per interni e arredi su misura altamente personalizzati. Il nostro lavoro si svolge in stretta collaborazione con gli architetti ed è anche la parte, se vogliamo, più stimolante e più divertente perché veniamo coinvolti in un team di progettazione in cui siamo chiamati a integrare i nostri prodotti con un edificio e con lo spirito del progetto. L'innovazione è assolutamente a 360 gradi, non è soltanto a volte la finitura o un particolare ma quando realizziamo una porta, spesso, ne disegniamo tutte le componenti. La Lualdi è una delle tre aziende che sono state beneficiate dal riconoscimento del progetto europeo Horizon 2020. Il progetto Horizon ha individuato alcune aree tematiche alle quali le aziende potevano aderire nei loro progetti. Noi abbiamo scelto quella dell'ecosostenibilità perché lavorando in legno riteniamo che sia stata una tematica molto rilevante. L'innovazione nella nostra azienda era già stata molto attenta a questo tema con l'impiego di materiali di origine certificata. Purtroppo siamo solo tre le aziende italiane beneficiarie e questo non è per noi tanto motivo di soddisfazione quanto uno stimolo per invitare molte altre aziende a dare la giusta attenzione a questi strumenti che la comunità europea mette a disposizione. La sensibilità della clientela ha una mobilità molto elevata sia in ragione nella direzione del tempo sia nella direzione dello spazio e delle diverse culture con le quali noi ci confrontiamo attualmente. A causa anche dell'ampliamento degli orizzonti commerciali e dei mercati che affrontiamo ci dobbiamo sempre adattare a esigenze nuove. Infatti nel 2009 abbiamo appena realizzato un nuovo insediamento che abbiamo deciso di realizzare in Italia senza delocalizzare e che ha improntato in ogni sua parte al tema della flessibilità produttiva. Trasformarsi significa rimettersi in discussione in ogni momento e essere disponibili a rivedere il proprio modo di lavorare senza la pretesa di imporre nulla al mercato. Innovare significa prestare attenzione a quelle che sono le esigenze dell'abitare della nostra clientela e al loro modo di essere e cercare di accogliere queste nuove sensibilità nei nostri prodotti. Il futuro si costruisce con una dimensione globale del team di impresa che deve ricomprendere sia il tessuto del territorio industriale dei fornitori, dei finanziamenti e soprattutto deve avere un orizzonte internazionale. Grazie per la visione! Grazie a tutti!